...innovazioni che possono sostituirlo, che possono praticamente eliminarlo. Dovito! Bene, signore e signori, che è la tecnologia approssimativa del lupo solitario che però non riesce a far sparire questo impidastro. Vai via con lo specchietto dal monitor. Cominciamo, signori, verifichiamo. Tutti i soliti nostri complici, tutti i collegamenti che si sa, sono in atto quando il lupo solitario comincia a trasmettere. Il primo dei collegamenti è con i nostri complici ufologi. Vediamo se hanno scoperto qualcosa questa sera. Pronto, naso, pronto! Anche lui è talmente automatico che non c'è, il naso solitario. Eccolo qua. Pronto? Ciao lupo, senti, siamo appena arrivati, guarda. Lasciami sistemare le cose e chiamali tu un momentino più tardi. Ci sentiamo, ciao, ciao. Onnipresente, quando il lupo solitario trasmette, c'è sempre naso con le previ Arcadia, ma c'è anche Tex, Tex Willer, il superio, che sempre funziona. Tex, vedremo anche questa sera un sacco di gente. Grazie. Grazie.